Anche quest'anno la SIA è presente in una fila internazionale aerospaziale, Aeromart 2015. Rispetto all'anno scorso Tolosa, sembra una fila molto proficua, aspettiamo e attendiamo i nostri riscontri. Quest'anno ci siamo anche segnali di ripresa, attendiamo per un 2016, visto che siamo agli sgoccioli di questo 2015, però si potrebbe muovere qualcosa.